Da un lato, quello nord della città, un enorme traliccio, dall'altra parte, al ridosso del centro storico, un ripetitore 5G. Antenne, Antenne Monelle, al centro della puntata di Linea Diretta Brindisi, in programma giovedì sera alle 21 su Antena Sud 85. Due installazioni che fanno discutere la prima spuntata da qualche tempo su Via di Vagno, ha attirato le preoccupazioni di alcuni residenti che, spalleggiati dal coordinatore cittadino di Forza Italia, Mimmo Bungaro, chiedono spiegazioni e magari rassicurazioni all'amministrazione comunale. La seconda installazione, ovvero il traliccio presente al centro di un terreno di proprietà pubblica, si contrappone invece tra i sogni di chi, in primis il sine quanto nell'Odenuzzo, sogna la nuova sede dell'ITIS che nei progetti dovrebbe sorgere proprio su quell'area. Antenne diverse, eppure Monelle, se ne parlerà tra paure e speranze, tra ospiti ed esperti, in linea diretta a Brindisi, in onda alle 21. Grazie. Grazie.